Ciao a tutti e a tutte mentolati e mentolati sul mio canale. Allora, dove sono? Beh, mi parlo del fatto che sono a Calamusca, a Cagliari, e sono in compagnia di Papino, di Nonnina e di Nonnino, e anche con mia madre, però oggi non... adesso sto a prendere un attimo internet per giocare un attimo. Allora, siamo al mare e come vedete aspetta di essere riesco a girarmi. Aspettate. Così. Ci sono anch'io. Non so a cosa sto registrando, quindi auguri. Allora, per oggi è tutto. Lasciate like e iscrivetevi al mio canale se anche voi una volta nella vita siete andati a Calamusca, ma non credo. Per oggi è tutto. La fam... è da Asia Bianchi e famiglia Out.